livello 14 impossibile andiamo cercherò sempre di essere veloce vai importante stare entro i 5 minuti entro insomma intorno ai 5 minuti benissimo vedo che ci sono tantissime gemme rosse in giro che allora vai 1 2 e 3 togliamo la maledizione verde ok facciamoci questa bella gemma blu ok perfetto andiamo ok vai mariana fammi sognare sta succedendo di tutto non ho capito neanche io cosa è successo però uno 2 3 4 ok livello 2 andiamo vai anna allora tolgo la maledizione verde me ne arriva un'altra mannaggia lei non so cosa fare speriamo che mi arriva un verde da qua ok è arrivato perfetto allora la tolgo perché così non ci penso più ora gialli a me ok mamma mia la quantità inutile di tessere che mi sta arrivando ok si però adesso aspetto perché dovrebbe morire non è ancora morto allora vabbè facciamo così che intanto sono col contrattacco allora 1 2 3 4 adesso pensiamo a questo coso verde qui dammi qualcosa di verde ok allora in teoria li dovrei far salire quindi faccio così che muore perfetto e siamo alla resa dei conti finale che si caricano tutti quindi 1 2 3 4 5 togliamo la maledizione verde speriamo che oh vai che bello facciamo così e facciamo così poi facciamo così allora come faccio io adesso con questa cosa verde con questa cosa qua non so cosa fare sono bloccato proviamo speriamo che venga qualcosa di rosso ok mi salvo anche stavolta vai 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 allora andiamo mariana mariana anna ok Elena gulli e l'altro gulli dai 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 ok si è preso un bel 800 di contrattacco eh ma che meraviglia mangiate 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 teschietti mangiate mangiate ancora 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 dai 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 mariana finisci l'opera ottimo cinque minuti e mezzo dai ci sta dammi emblemi da druido dammi emblemi da druido grazie allora guarigione mana hp mana mana sempre mana ma 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 Grazie a tutti.